Londra diventa la città pilota del progetto Gaia, che vedrà il Consolato Generale Italiano interamente digitalizzato, come annunciato da Luigi Maria Vignali, direttore della Direzione Generale degli Italiani all'estero, accompagnato dal Console Generale Domenico Bellantone. Un consolato fortemente digitalizzato, in cui interagiranno elementi del metaverso e elementi dell'intelligenza artificiale, che consentirà di automatizzare completamente alcuni processi, attraverso la digitalizzazione degli archivi, attraverso lo sviluppo di Fastity, il portale che già conta un milione e mezzo di iscritti nel mondo, attraverso la carta di identità elettronica che dà luogo a un'identità digitale per i cittadini e attraverso la cosiddetta chatbot. Per Londra è un po' una sede pilota per tanti progetti sperimentali. Inizio anno partirà il chatbot, che sarà questo sistema virtuale con gli utenti, un passaggio obbligato per rimanere in linea con i tempi, adeguati anche alle esigenze della nostra comunità. Affinché questa fase di digitalizzazione avvenga, ci si deve assicurare di avere un sistema sicuro, senza hackers e con finanziamenti importanti, ma non solo. L'altro punto è quello della riservatezza ai dati personali. La conservazione dell'impronte che Gaia rileva e il loro trattamento è un tema che va sviluppato, approfondito e anche quello messo in sicurezza. Intanto il Consolato Italiano a Londra ha già finalizzato oltre 100.000 pratiche in soli 11 mesi, ha istituito ingressi walk-in che favoriscono il processo delle pratiche per donne in stato di gravidanza, disabili, anziani e minorenni e continua la collaborazione con il Comites. Il nostro Comites qui a Londra è davvero un Comites eccezionale, delle persone che lavorano serie, facciamo un ottimo di tanti progetti e con cui c'è una sinergia che va a beneficio della comunità.